Governatori delle regioni in pressing sul governo per rivedere le regole della quarantena. Se non si cambia si rischia una paralisi delle attività produttive, dicono. L'esecutivo valuta la riduzione dell'isolamento a 3-5 giorni per chi ha ricevuto la terza dose. Il governo aspetta il parere del comitato tecnico scientifico che è stato convocato per domani. Continua a salire il numero dei contagi dopo il fine settimana natalizio con meno tamponi processati. In Veneto oggi nuovo record di casi da inizio pandemia con oltre 7.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. L'impennata probabilmente legata anche ad un minor tasso di registrazione dei tamponi nei giorni festivi. Pareri a confronto li ascolteremo tra due esperti sull'ipotesi di lockdown per non vaccinati in Italia sul modello adottato in Germania. Nuova stretta in Francia alle prese con una curva dei contagi in forte risalita. Le autorità hanno varato il Super Green Pass che entrerà in vigore dal 15 gennaio. Ridotto a tre mesi l'intervallo fra seconda dose vaccinale e richiamo booster. Proteste in diversi land della Germania contro le misure restrittive adottate dalla governo. Riprendono le manovre politiche in vista dell'elezione del capo dello Stato. La partita per il Colle è stata sicuramente al centro del faccia a faccia notturno tra Salvini e Renzi in Senato durante l'approvazione della manovra. Formalmente il nome di Berlusconi resta in campo nel centro-destra che è però meno unito di come voglia far apparire. Forti divisioni anche a sinistra e dentro il PD dove il fronte pro Draghi del segretario Letta trova avversari. Anche lo spazio alimenta le tensioni fra Cina e Stati Uniti ad innescarle la duplice mancata collisione fra i satelliti mandati in orbita dal miliardario statunitense Elon Musk e la stazione spaziale cinese. Durissime accuse di Pechino contro Washington ed è irresponsabile mettere a rischio le attività nello spazio. Per lo sport il trionfo di Dominic e Paris nella discesa libera di Coppa del Mondo disputata al Bormio per l'Azzurro. La sesta vittoria sulla pista Stelvio mai nessuno come lui. Paris ha vinto davanti agli svizzeri Odermatt e Dinterman. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque ancora una volta in primo piano la situazione del contagio, della pandemia nel nostro paese, le misure adottate dal governo e quelle allo studio. Tra quello e lo studio su tutte in queste ore c'è la riduzione della quarantena per coloro che hanno avuto il contatto con un positivo. Su questo tema forte è il pressing delle regioni nei confronti dell'esecutivo che ha chiesto un parere al Comitato Tecnico Scientifico in queste ore, Comitato Tecnico Scientifico che verrà riunito domani. L'ipotesi primaria è quella di una riduzione della quarantena appunto per chi abbia avuto un contatto con un positivo a 3-5 giorni se la persona ha fatto la terza dose di vaccino. Perché il rischio altrimenti con 2 milioni e mezzo di italiani che sono in quarantena fiduciaria a casa è che ci sia una vera e propria paralisi della produzione e dell'economia del paese. C'è uno scontro fra la linea rigorista della prudenza e quella aperturista del rischio calcolato. Da ieri le regioni del nord, con in prima linea i presidenti Fedriga, Zaia e Toti, premono per accorciare le quarantene dei contatti dei positivi. A gennaio di questo passo rischiamo che l'Italia si blocchi, spiegano i governatori. Il CTS si riunirà domani e l'ipotesi su cui si lavora è quella di accorciare la quarantena a 5 giorni per i contatti vaccinati e asintomatici. Gli infettivologi, con alcune eccezioni come Bassetti, che vorrebbe non solo accorciare ma eliminare del tutto le quarantene, sono cauti. Sarebbe meglio aspettare e valutare l'impatto della variante Omicron sui ricoveri in ospedale. Per ora Omicron sembra meno aggressivo. Il reparto o solo pazienti Delta, spiega Giovanni Di Perri, primario di infettivologia dell'Amedeo di Savoia di Torino, ma i contagi corrono forte. Stefania Salmaso, epidemiologa, ha provato a fare una proiezione. Nella settimana che è finita con il giorno di Natale abbiamo registrato in Italia già un incremento notevole di casi, più di 230.000 casi in una settimana. E abbiamo osservato un tasso di crescita superiore al 60%. È probabile che la diffusione subisca un'ulteriore accelerazione e si possa arrivare anche a un raddoppio dei casi registrati. Se in una settimana vengono registrati 500.000 casi e ogni caso ha avuto, ad esempio, dai 4 ai 10 contatti, è chiaro che si può arrivare anche a un 5 milioni di persone che hanno avuto contatti con casi. I casi vanno in isolamento. Con le regole attuali i contatti dei positivi rimangono in quarantena per 7 giorni se vaccinati, per 10 giorni se non vaccinati. Le regioni in questo modo temono il tilt di settori essenziali come ospedali, trasporti e scuole. Una riduzione dei tempi dell'isolamento così sembra molto probabile, scorciando la quarantena per chi ha già fatto la terza dose o la seconda da non più di 5 mesi. Ma il governo deve valutare anche se cambiare i tempi dell'isolamento già in questa settimana o attendere i primi giorni del 2022. E poi ci sono come sempre i numeri, quelli che ci dicono che il tasso di positività nel Paese è salito al 9%. Anche ieri 30.000 contagiati, numeri che sono sempre da leggere e interpretare. Chiaramente lo diciamo sempre a fronte di un numero di tamponi e di un'attività di tracciamento dalle cifre elevatissime, sconosciuta in passato. Per questo il raffronto va fatto sempre in maniera molto obiettiva. Di fatto oggi però in Veneto si tocca un record di contagi dall'inizio proprio della pandemia. Oltre 7.400 positivi nella giornata di oggi, anche se qui può incidere qualche mancata registrazione nei giorni di Natale. Sul fronte dei vaccini l'unica vera difesa, come sottolinea ogni giorno, sottolinano le autorità scientifiche, c'è stata la riduzione dei tempi di una terza dose che si può fare a quattro mesi dalla seconda. Dopo qualche giorno di festa nei tracciamenti torna a salire il numero di tamponi processati e anche il numero dei contagi. Questa mattina in Veneto è stato comunicato un nuovo record di casi da inizio pandemia, ben 7.400 in un solo giorno. Forse questo dato è legato al fatto che nei giorni precedenti c'è stato un minor tasso di registrazione di casi che probabilmente si sono cumulati a quelli della giornata di oggi. Negli ultimi giorni infatti ce n'erano stati solamente 2.000. I decessi nella regione delle ultime 24 ore sono stati 29. Diminuiscono però i ricoveri in area medica di 49 unità e nelle rianimazioni di 7. Sono un terzo rispetto al momento peggiore della pandemia, ha commentato il governatore Zaia. In queste ore è stato annunciato anche il record di positivi in Basilicata 464 su 2.500 tamponi. dati forniti di buon mattino e dunque c'è il rischio che anche nelle altre regioni ci sia ancora questa escalation di casi. Nei dati di ieri invece quello che balza agli occhi è il tasso di positività ancora una volta piuttosto elevato, un soffio sotto il 9%. Il numero dei contagi però è proporzionale al numero di tamponi processati. Ne sono stati eseguiti 340.000 i contagi, sono stati poco più di 30.000 e quindi ben lontani dal record di 55.000 di pochi giorni fa. Ora, sebbene gli esperti stiano riscontrando che la variante Omicron ormai presente nel 50% dei casi nel nostro paese sui vaccinati dia dei sintomi molto più leggeri, la grammole di contagi non fa che in percentuale riempire gradualmente le terapie intensive e i reparti ordinari. Sono state superate le due soglie limite rispettivamente del 10% e del 15%. Questa mattina intanto Pfizer ha annunciato che in primavera dovrebbe essere pronto il vaccino contro Omicron, anche se la stessa azienda ancora non sa se sarà necessario perché la terza dose del vaccino attuale dà una protezione di 25 volte superiore rispetto alle altre due nei confronti della nuova variante. È scattata infatti la corsa al booster che ora si potrà per notare già quattro mesi di distanza dalla seconda dose a partire dal prossimo 10 gennaio, una platea di circa 21 milioni di persone che a gennaio torneranno a vaccinarsi. Serve uno sprint da parte delle regioni. Il Piemonte ha già deciso che aprirà nuovi hub. Nel Lazio scatteranno le aperture notturne di cinque hub strategici come quello della stazione Termini. Altre regioni invece punteranno a mantenere lo stesso ritmo delle somministrazioni come la Lombardia, il Veneto e la Campania. E dunque in questo scenario se da un lato come abbiamo visto all'inizio del telegiornale si pensa a ridurre la quarantena per i vaccinati venuti a contatto con un positivo, nel dibattito, al centro del dibattito c'è anche l'idea delle restrizioni per coloro che il vaccino proprio non vogliono sapere di farselo. Il famoso lockdown per i non vaccinati, modello preso appunto in prestito dalla Germania che sta dando proprio in Germania risultati significativi. Io credo da valutare il lockdown per i non vaccinati. È stato efficace in Germania e credo che potrebbe replicarsi anche per quanto riguarda l'Italia. Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell'Università Statale di Milano, da giorni propone il modello tedesco del lockdown per i non vaccinati per convincere quel 10% di italiani non ancora immunizzati. Pregliasco segnala infatto che il sistema tedesco ha comunque funzionato e pertanto è degno di nota. L'incidenza settimanale in Germania continua a scendere. Il dato delle nuove infezioni per 100.000 abitanti ieri era a 215,6 mentre il giorno precedente era a 222,7. Una settimana fa a 306,4 ed un mese fa a 452,2. Ho sempre detto, prosegue Pregliasco, anche quando si parlava soltanto di sindrome influenzali, che i contatti stretti tra parenti ed amici durante le feste avranno un effetto che vedremo nei prossimi 15 giorni quando riapriranno anche le scuole. Togliere la quarantena ai contatti dei positivi e chiudere il tamponificio Italia sono invece i cavalli di battaglia di Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che ricorda come il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c'è una corsa all'autoprescrizione. Come noto ricorda Bassetti, specie i tamponi rapidi fanno falsi negativi, fino al 40%, e c'è chi forte di una falsa patente di tranquillità se ne va tranquillamente in giro da positivo. Ma sul lockdown per i Novax Bassetti ha una posizione differente da Pregliasco. Più che arrivare a un lockdown per i non vaccinati, che evidentemente non credo che sia una cosa semplice da farsi, perché cosa vuol dire che i non vaccinati non escono più di casa, i non vaccinati in qualche modo non vanno più a lavorare, è evidente che da medico sarebbe incontento se si potesse trovare degli strumenti per vaccinare le persone, ma non credo che sia quello della contraposizione, del muro contro muro, in qualche modo lo strumento oggi. Forse è più opportuno oggi parlare ancora una volta, dopo un anno, facendo vedere quelli che sono i benefici ottenuti con i vaccini, che si stanno ottenendo con i vaccini e finirla con l'ideologia. Chi ha ancora paura si deve convincere che l'unico modo che abbiamo per poter uscire dalla pandemia è quello di vaccinarsi. E questi dunque, come avete sentito, sono i pareri degli esperti messi a confronto in questo dibattito della Germania, peraltro alle prese, vedremo tra poco anche con vibranti proteste di piazza per quelle che sono state le restrizioni, le iniziative prese dal governo per arginare il virus. Poi ci sono paesi su tutti gli Stati Uniti che la quarantena, per coloro che hanno avuto dei contatti diretti, non la prevedono più, addirittura hanno ridotto a cinque giorni l'isolamento di persone positive se asintomatiche. Di fatto invece la variante Omicron corre molto velocemente, l'Europa la teme e paesi come Francia e Regno Unito pensano e attuano anche già nuove iniziative. Per sconfiggere la variante Omicron del Covid la Francia segue l'esempio tedesco. Chi voglia partecipare alla vita sociale potrà farlo solo a patto di essere vaccinato o guarito. A stabilirlo è l'Eliseo, con un provvedimento che si è approvato in Parlamento trasformerà il pass sanitario in pass vaccinale operativo dal 15 gennaio. Vista la riduzione dei contagi da oltre 70.000 a 12-13.000 al giorno ottenuta in Germania imponendo un lockdown parziale ai Novavax, dunque anche i 5 milioni di francesi non immunizzati non potranno andare a teatro, al cinema, in palestra, viaggiare in treno o in aereo. Il Premier Castex annuncia che da domani si potrà prenotare la terza dose del vaccino a soli tre mesi dalla seconda. Entro domenica prossima i giorni di isolamento di chi sia stato a contatto con un positivo potrebbero essere ridotti. Eccezionalmente, fino al 31 gennaio, i supermercati potranno vendere tamponi antigenici da fare in casa. Finora potevano farlo solo le farmacie. Dal 3 gennaio, nei locali sarà possibile consumare solo al tavolo. Per Capodanno, no a grandi feste e assembramenti, sì alla mascherina e ai test preventivi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati quasi 30.400, in aumento rispetto ai 27.700 del giorno prima, ma molto al di sotto degli oltre 100.000 registrati a Natale. Nel Regno Unito il Governo non imporrà alcuna restrizione anti-Covid da qui a fine anno perché, spiega il Ministro della Sanità, Sajid Javid, l'andamento dell'epidemia non è cambiato nel periodo natalizio. Ieri sera, in Germania, migliaia di persone sono scese in strada, soprattutto nell'est del paese, per protestare contro le restrizioni anti-Covid. Nella città di Bautzen, in Sassonia, 10 poliziotti feriti negli scontri. Da oggi sarà vietato incontrarsi in case d'uffici in più di 10 persone, anche se vaccinate o guarite. Il Parlamento federale si appresta a valutare l'introduzione dell'obbligo vaccinale. Gli Stati Uniti riducono da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi al Covid asintomatici ed eliminano la quarantena per i vaccinati con terza dose che abbiano avuto contatti con positivi. Israele, prima al mondo, inocula la quarta dose del vaccino per salvaguardare le fasce più a rischio e si appresta ad allentare le restrizioni da e per il paese rimuovendo dalla lista rossa paesi africani e dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. Il Sudafrica, infine, sospende il tracciamento dei contatti con i positivi al Covid perché la maggioranza della popolazione sarebbe già entrata in contatto col virus. Ecco, tornando in Italia andiamo adesso a vedere come preoccupi in questa fase la conseguente crisi del turismo con molte prenotazioni che sono state disdette soprattutto per quanto riguarda la montagna con la ristorazione che torna a soffrire. Ci sono le associazioni di categoria che stimano che senza un'immediata proroga da parte del Governo di quelli che sono gli ammortizzatori sociali Covid da gennaio ci possano essere almeno 200.000 lavoratori del settore completamente scoperti, privi di stipendi. Viaggi rinviati, cene disdette, prenotazioni annullate con la nuova ondata pandemica. Il settore del turismo è di nuovo in affanno. A fatica si cercava di risanare i bilanci dopo un anno e mezzo in profondo rosso ma ora i contagi, le restrizioni per l'estero e la paura che una quarantena impedisca la partenza stanno di nuovo fermando tutto. Coldiretti stima 4 miliardi di perdita per il comparto solo per i giorni tra Natale e l'Epifania. Per lo stesso periodo Confcommercio conta 13 milioni meno di viaggi all'estero. In questo periodo si sono fermate le vendite perché col peggioramento poi dell'andamento della pandemia logicamente tutto si stoppa. Le disdette sono dovute a quello che 48 ore prima o 72 ore prima o 24 ore prima fa il tampone e risulta positivo. Noi dobbiamo far viaggiare gli italiani e uscire dall'Italia in questo momento. Fino a metà ottobre non era possibile uscire dall'Italia. Questo bisogna dirlo per turismo. In grande difficoltà anche i viaggi di istruzione per le scuole. Per quanto riguarda le scuole i presidi delle scuole pubbliche soprattutto hanno ancora paura a organizzare queste gite questi viaggi di istruzione che era il mio lavoro più grande. E gli adulti noi organizziamo viaggi di gruppo hanno molta paura di andare in gruppo. Il 2021 è andato peggio del 2020 dice Confindustrialberghi. Il tasso di occupazione delle camere ha registrato un calo del 48% più penalizzate le città d'arte dove gli stranieri non sono mai tornati. A Roma, ad esempio, ci sono ancora 350 alberghi chiusi. Altri stanno per richiudere. A dicembre scade la cassa integrazione, Covid, quindi questo è un altro provvedimento che noi abbiamo chiesto anche a voce al governo. ma al momento, oggi è il 28 dicembre e non abbiamo ancora notizie in tal senso. Più altre strutture, altri interventi strutturali all'interno del sistema come per esempio la seconda rara del Limo che abbiamo comunque già pagato a dicembre e il bonus affitti. Negli aeroporti non si è mai tornati a regime. In un hub come Malpensa, SEA stima che prima di Natale i voli erano il 65% rispetto al 2019 ma da Natale sono il 44% in meno. Non va meglio in montagna. Uncem, Unione Comuni Montani, calcola addirittura il 60% delle disdette non solo nelle strutture ma anche nei ristoranti. In tanti rinunciano ai cenoni e le scorte sono difficili da ammortizzare. Passiamo alla politica perché pochi istanti fa la Commissione Bilancio della Camera ha approvato il testo della manovra che è stato esaminato in mattinata. Sono stati esaminati gli emendamenti delle opposizioni. Il testo adesso passa all'Aula dove alle 14 comincerà un dibattito che si concluderà nel tardo pomeriggio. Adesso la questione è quella della fiducia. Proprio durante una sessione Fiume che riguardava appunto il percorso l'iter della manovra in Senato a tardanotte c'è stato un colloquio un faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il tema presumibilmente è quello che anima il dibattito tra i partiti in questa fase ovvero la corsa al Colle il nome per il Quirinale. E c'è da dire che quel che si sono detti non è dato al momento saperlo ma sicuramente attiene a strategie che vedono i partiti in questa fase andare un po' in ordine sparso. Mezz'ora di faccia a faccia sotto gli occhi di tutti in Aula. Cosa ci siamo detti? Rimane tra noi. I due Matteo, Renzi e Salvini saldano l'asse comune Italia Viva forte di 45 delegati che potrebbero aggiungersi a una trentina di centristi e Lega in vista del voto per il Colle. Un segnale ad entrambi gli schieramenti. Al centrodestra, formalmente legato alla prospettiva Berlusconi non a caso proprio uno dei colonnelli leghisti l'ex ministro Calderoli ha parlato per il carroccio. Se il centrodestra decide di puntare su Berlusconi, ha detto Calderoli il colpo può uscire alla quarta votazione se sarà lui il candidato tenteremo qualunque strada per arrivare all'elezione dopodiché verificheremo i numeri del quarto scrutinio e a quel punto spetterà i segretari di partito decidere quale strada prendere. La Lega, sicura, sarà compatta. Un messaggio che potrebbe avere una doppia lettura il pallino in mano al centrodestra e soprattutto se non si raggiunge un accordo si andrà dritti sull'unico nome osteggiato da tutto il centrosinistra compresa Italia Viva che ieri ha ribadito con Rosato che non si accoderanno sul leader di Forza Italia. Il nome di Berlusconi rimane comunque in campo ma dietro le quinte c'è chi racconta di un centrodestra più diviso di quanto appaia. Il vero candidato è legato alla partita doppia sul futuro di Palazzo Chigi. Convergere sul premier Draghi significherebbe trovare una soluzione di transizione alla presidenza del Consiglio ipotesi non gradita a Fratelli d'Italia che vorrebbero un ritorno alle urne come ha ribadito un battitore libero di aria il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Se Draghi dovesse andare al Quirinale dice il ricorso al voto anticipato sarebbe più che legittimo e naturale. Il campo del centrosinistra intanto procede più diviso che mai mentre il fronte Giuliano Amato inizia a raccogliere le sue truppe le posizioni interne al PD sono un rebus di difficile soluzione. Il segretario Letta frena le spinte anti Draghi vedi i Bettini di ieri che chiedeva un nome politico e non un tecnico ma le varie correnti spingono in direzioni diverse con il ministro Orlando che paventa il rischio di un voto anticipato. E i loro alleati? Un'altra linea ancora con Giuseppe Conte che lancia l'idea di una donna al Quirinale. Parliamo adesso dell'emergenza migranti perché in Libia da un lato regge le cessate il fuoco dall'altro però come sappiamo è stato mancato l'appuntamento elettorale del 24 dicembre ed urge un governo stabile perché tra l'altro la conseguenza è anche quella che riguarda appunto i migranti con salvataggi che continuano e sbarchi che continuano. Tra questi ci sono i mille che sono a bordo di due navi dell'ONG che ancora attengono un porto sicuro. Lui è uno dei più piccoli sopravvissuti che sono riusciti a raggiungere le nostre coste lo scorso weekend. Ha poco più di 20 giorni ed è arrivato in Italia con la mamma a bordo dell'Ocean Viking proprio nel giorno di Natale con lui 114 migranti finalmente sbarcati a Trapani dopo giorni passati in mare. In queste ore ce ne sono altri mille in attesa di un porto sicuro 558 a bordo da Leggo Barents la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere e 440 sulla Sea-Watch 3 da cui questa notte sono state evacuate altre 4 persone una giovane donna incinta sua sorella minorenne un uomo con problemi medici e suo figlio. In queste ore i volontari continuano a lanciare appelli per ottenere un porto sicuro. come racconta quest'uomo nel centro di detenzione da cui siamo scappati molti soffrivano la fame venivamo picchiati dalle guardie e non ci davano abbastanza cibo fino a quando non stavamo per morire quando siamo scappati ci hanno sparato io sono stato colpito ad una gamba sono cadute ho perso conoscenze in mezzo alla strada ci sono molti abusi sulle donne racconta poi il prezzo più alto lo pagano loro nonostante questo spesso non riescono a riacquistare la libertà una realtà drammatica con cifre in costante aumento a partire da quante hanno perso la vita quest'anno 1.500 nel Mediterraneo i migranti sbarcati sulle nostre coste finora sono stati 66.432 il doppio rispetto all'anno scorso sei volte di più rispetto al 2019 tanti minori che affrontano viaggi durissimi spesso da soli quelli non accompagnati arrivati quest'anno in Italia sono stati 9.478 rispetto ai 4.687 del 2020 e ai 1.680 del 2019 è tempo che l'Unione Europea si assuma le proprie responsabilità nel Mediterraneo centrale si legge nell'ultimo tweet di medici senza frontiere ma da quel fronte arriva soltanto un silenzio assordante dal 2015 ad oggi l'argomento è stato affrontato in almeno 120 vertici senza nessuna decisione determinante basti dire che dall'inizio dell'anno solo poco più di 160 migranti su oltre 66.000 arrivati sono stati redistribuiti il nuovo decreto flussi intanto raddoppia le quote d'ingresso per lavoro legale nel nostro paese che passano da 30.000 a quasi 70.000 parliamo adesso delle nucleare perché a Vienna i negoziatori iraniani e le 5 potenze mondiali hanno ripreso i colloqui i contatti per salvare e rilanciare quell'accordo sul nucleare di Teheran del 2015 con l'Iran che insiste però che prima di tutto vengano annullate tutte le sanzioni economiche nei confronti del paese che impediscono di esportare il greggio è il segno che i negoziati sul nucleare iraniano sono tornati davvero al centro dell'agenda diplomatica internazionale all'inizio di gennaio il presidente Raisi volerà Mosca su invito di Vladimir Putin il cremlino ha sempre supportato la Repubblica Islamica nella lunga trattativa che portò allo storico accordo del 2015 voluto fortemente dalla presidenza di Barack Obama e da ieri a Vienna sono ripresi i colloqui tra il governo di Teheran Russia Cina Francia Regno Unito e Germania l'amministrazione Trump del ritiro unilaterale degli Stati Uniti fece uno dei pilastri della sua politica estera in risposta l'Iran riprese l'attività di arricchimento dell'uranio e nuove dure sanzioni occidentali si riversarono sulla Repubblica Islamica con grande imbarazzo dell'Unione Europea Germania in testa che aveva puntato molto sulla ripresa del dialogo con Biden alla Casa Bianca invece i negoziati sul nucleare iraniano si sono riaperti la primavera scorsa in un momento di emergenza energetica generale la questione è cruciale sotto embargo l'Iran quinto paese al mondo per produzione petrolifera estrae 2 milioni di barili al giorno assorbiti interamente dal fabbisogno cinese negli anni 70 viaggiava al ritmo di 6 milioni di barili ed oggi l'obiettivo è arrivare a meno a 4 milioni entro la primavera ma per questo ovviamente devono cadere le sanzioni la delegazione iraniana chiede la ripresa dell'esportazione di greggio senza limitazioni e la possibilità di depositare gli introiti in banche iraniane in valuta estera ma nonostante l'intenzione dichiarata gli Stati Uniti finora hanno mantenuto la posizione di Trump e per il segretario di Stato Blinken le sanzioni resteranno in vigore fino alla firma di un nuovo accordo Teheran invece vorrebbe la fine immediata di ogni restrizione in caso contrario proseguirà nel suo programma nucleare ma se i colloqui a Viena dovessero fallire si impegna comunque a non superare la quota del 60% di arricchimento di uranio un segnale di distensione Washington deve però in ogni caso tener conto della pressione israeliana siamo pronti ad agire contro l'Iran anche da soli ha ammonito il ministro degli esteri Lapid convinto che sul nucleare l'Iran stia ingannando il mondo solo per ottenere la revoca delle sanzioni le possiamo davvero definire guerre stellari e verrebbe proprio da chiedersi ma quanto spazio c'è nello spazio se è vero come è vero che la Cina alquanto risentita ha dovuto inviare un documento alle Nazioni Unite per lamentare che una sua stazione spaziale ha dovuto evitare con manovre specifiche una di quelle che viene definita appunto costellazione di satelliti creata e lanciata nello spazio dal multimiliardario Elon Musk fondatore anche di Tesla l'ultima polemica tra le due superpotenze che si contendono il dominio economico del pianeta e anche dello spazio si consuma sulle nostre teste questa volta è Elon Musk il patron di Tesla e di SpaceX l'uomo più ricco del mondo ad irritare Pechino per un presunto duplice rischio di collisione ancora però non verificato tra la stazione spaziale cinese alcuni satelliti mandati in orbita nell'ambito del progetto Starlink Internet Service del multimiliardario statunitense secondo quanto denunciato da Pechino in un documento ufficiale consegnato all'Agenzia Spaziale delle Nazioni Unite per ben due volte a luglio e poi ad ottobre i cinesi hanno evitato solo grazie ad una serie di manovre spaziali di scontrarsi con i satelliti della SpaceX sono quasi 2000 quelli che orbitano attualmente attorno alla Terra per portare connettività in tutti gli angoli del pianeta di proprietà di Elon Musk che pianifica di lanciarne presto degli altri ma quale rischio molto alto secondo i cinesi tanto che lo stesso governo di Pechino tramite il Ministero degli Esteri nel denunciare l'accaduto esorta gli Stati Uniti a comportarsi in maniera responsabile nello spazio aereo tra l'altro non suo ma esterno Elon Musk non ha ancora fornito spiegazioni dettaglio che non è sfuggito ai cinesi con tanto di inviti che rimbalzano sui social network del dragone a boicottare il prodotto che Musk esporta maggiormente in Cina ossia le sue Tesla il mercato cinese rappresenta circa un quarto del totale e la Tesla ha anche una fabbrica Shanghai quello dei detriti spaziali è un tema non certo nuovo gli appelli degli scienziati perché i governi si mettano d'accordo e facciano il possibile per evitare collisioni tra satelliti detriti e frammenti si sono moltiplicati negli anni lo scorso mese la NASA è stata costretta a cancellare una passeggiata spaziale proprio per il rischio di possibili incidenti ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria poi torniamo con aggiornamenti e pagina sportiva tra poco torniamo in studio pagina sportiva che di diritto apriamo con l'impresa di Dominic Paris che in Coppa del Mondo per la sesta volta ha vinto la discesa libera al Bormio vediamo le immagini una prestazione davvero fantastica ha stravinto questa discesa dello Stelvio l'Azzurro ha preceduto gli svizzeri Odermatt ed Interman si tratta di un record assoluto che lo inserisce di diritto nella storia di questa specialità mai nessuno in Coppa del Mondo era riuscito infatti a vincere tante volte sulla stessa pista in una disciplina che per quella che è la sua difficoltà e la sua spettacolarità viene considerata giustamente la disciplina principe dello sport dello sci è alpino questa dunque l'esultanza di Dominic Paris alla sua sesta volta in discesa libera allo Stelvio e adesso passiamo ai temi del calcio e alle trattative del calcio mercato di riparazione i pochi soldi che girano intorno all'imminente mercato di gennaio serviranno a garantirsi gol dei centravanti e in circolazione adesso ce ne sono pochi per questo la Juventus sta facendo di tutto per portare a Torino Gianluca Scamacca e nel primo incontro col Sassuolo dopo le feste ha avanzato una proposta complessiva da 35 milioni per averlo subito pagamento dilazionato con l'inserimento di uno o più giovani nella valutazione la dirigenza neroverde che valuta l'attaccante 40 milioni però non ha fretta ha già venduto Bogà all'Atalanta e preferirebbe aspettare giugno per scatenare un'asta che coinvolga anche Inter e Milan più le big d'Europa per fare cassa intanto la Juve ha messo in vetrina i suoi centrocampisti Arthur Ramsey uscite obbligate per equilibrare i bilanci il Milan non sembra avere avversari nella corsa al gigante difensivo Sven Botman per i 195 centimetri del 21enne olandese i francesi dell'Illa hanno chiesto 30 milioni per il cartellino controproposta del club rossonero per un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe concretizzarsi a breve in casa Napoli oltre al mancato rinnovo di capitani insigne ci sono i malumori di Mertens trascurato da Luciano Spalletti ma è sulla difesa che il club vorrebbe intervenire subito e il nome caldo sembra essere quello di Cumbulla che trova poco spazio nella Roma di Murigno seguito anche l'ungherese del Fenerbahce Zalai intanto a Trigoria indirittura d'arrivo la trattativa che porterà nella capitale il 24enne Maitland Nils la cui d'utilità tattica mostrata nell'Arsenal ne fa il profilo ideale sia per il centrocampo che per il ruolo di Terzino 750 mila euro per il prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 10 milioni anche la Lazio cerca rinforzi in difesa l'addio di Lazzari aprirebbe le porte al francese Kurzawa ormai ai margini del Paris Saint Germain ma dall'ingaggio proibitivo in caso è già pronta l'alternativa Niccolò Casale che il Verona non avrebbe problemi a cedere come vice immobile spuntano invece i nomi di Lasagna e Kalinic intanto nella serata di ieri la Sampdoria ha annunciato il nome del nuovo presidente Marco Lanna 53 anni ex bandiera blu cerchiata dovrà gestire il dopo Ferrero Tutto il mondo dello sport lo abbiamo visto anche ieri sta facendo in questi giorni i conti con il Covid nel calcio italiano si moltiplicano le positività e ci sono allo studio iniziative perché il mondo del pallone soprattutto la nostra Serie A non corre il rischio di doversi fermare il messaggio del presidente federale Gravina è chiaro siamo disposti a tutto ma chiediamo solo di non essere fermati perché il calcio è l'infa per l'economia del nostro paese in quel tutto usato dal numero uno della FIGC c'è anche l'obbligo vaccinale per i calciatori una possibilità che in realtà Gravina già preso in considerazione in passato ne aveva parlato a fine luglio e tornato a parlarne a novembre affrontando il tema dei giocatori Cinovax a innescare il nuovo affondo sono stati due nuovi fattori primo l'aumento del numero dei positivi dovuto alla variante Omicron secondo il decreto anti-Covid varato dal governo che prevede a partire dal 10 gennaio l'obbligo di Green Pass rafforzato quindi di vaccinazione o certificato di guarigione nei precedenti sei mesi per chi usa palestre piscine e per sport di squadra al chiuso se è vero che il calcio si gioca all'aperto è anche vero però che i calciatori fanno uso dello spogliatoio che è luogo chiuso parleremo anche di questo aspetto nel confronto che avremo con i nostri scienziati nei prossimi giorni ha spiegato Gravina un confronto che porterà inevitabilmente a una riscrittura del protocollo della fede del calcio in tema di prevenzione e lotta al contagio il tempo c'è ma occorre fare in fretta perché il campionato ripartirà il 6 gennaio e lo farà ironia della sorte anche con Juve Napoli la gara che nella scorsa stagione costituì un precedente fondamentale in ambito Covid l'intervento del Lasra bloccò la partenza dei campani verso il capoluogo piemontese ne scaturì una battaglia legale che culminò con la sconfitta a tavolino inflitta inizialmente al Napoli dal giudice sportivo sentenza poi ribaltata dal collegio di garanzia dello sport del CONI da allora in pratica l'ultima parola spetta alle ASR che nei giorni scorsi hanno già provocato il rinvio di Udinese e Salernitana e lo spostamento delle due giornate di fine anno della Serie B attualmente il Napoli ha due contagiati Insigne e Fabian Ruiz ma il quadro completo della situazione si avrà nei prossimi giorni a preoccupare anche il ritorno dall'estero dei calciatori un'altra variante pericolosa in vista della ripresa degli allenamenti del resto le notizie che arrivano dagli altri campionati non aiutano in Germania il campionato riprenderà il 7 gennaio a porte chiuse in Inghilterra gli stati rimangono aperti ma le partite rinviate sono già 16 prima di chiudere la notizia di un elutto nel mondo del calcio all'età di 52 anni è scomparso per un arresto cardiaco Ugo Maradona fratello minore di Diego il decesso è avvenuto a Monteprocida in provincia di Napoli verso la fine degli anni 80 Ugo Maradona aveva seguito il fratello nella sua avventura italiana nel corso della carriera ha vestito una sola volta la maglia del Napoli per poi trasferirsi ad Ascoli dove ha disputato tre campionati complessivamente era l'ultima notizia vi lascio nel pomeriggio della 7 a Tagadà con Alessio Orzinger prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 20 grazie per averci come sempre seguito e ci vediamo domani grazie per aver guardato